Il Vesuvio non è sempre stato così. Tra i 40 e i 20.000 anni fa si è formato un grande vulcano strato, che chiamiamo Monte Somma, probabilmente verdeggiante nei periodi di quiescenza. Ma un'eruzione avvenuta in tempi remoti ha fatto collassare la caldera e ha distrutto il fianco esposto verso il mare. Il cono del Vesuvio è sorto solo nel 79 d.C. e nel medesimo anno si è svolta l'ultima violenta eruzione di tipo pliniano. Durante l'eruzione le città di Pompei o Plontis e Stabie furono distrutte dai flussi piroclastici stile Bay Sarge. Le esalazioni nocive del vulcano uccisero molti degli abitanti di Pompei e una spessa coltre di cenere coprì i loro corpi prima che fossero investiti dai flussi piroclastici. La cenere, poi indurita, ha quindi protetto le spoglie di buona parte delle vittime. In questi casi, dopo la decomposizione, nella cenere permane una cavità che ricalca fedelmente la posizione assunta al momento della morte. Ed è proprio riempiendo queste cavità con gesso o resine che gli archeologi hanno potuto creare questi calchi che testimoniano gli ultimi momenti di agonia dei Pompeiani. Erculaneum, invece, fu sepolta da almeno tre colate piroclastiche, sopra le quali sorge oggi la nuova Ercolano. L'antica città scomparve sotto una coltre di fango, cenere e piroclasti spessa fino a 20 metri, che ne ha conservato le meraviglie artistiche fino ad oggi. Potrebbe verificarsi in futuro un'eruzione simile? Sì, ma non è possibile stabilire esattamente quando. Quindi, per le popolazioni che abitano l'area fortemente antropizzata del Vesuvio, il rischio vulcanico è altissimo. Il rischio vulcanico è definito come il prodotto tra la probabilità che avvenga un'eruzione e i danni che essa provocherà. Questo vuol dire che se prendiamo due vulcani con attività simile ma in luoghi diversi, il vulcano circondato da centri urbani avrà un rischio vulcanico molto più elevato di quello che insiste su aree scarsamente abitate. Il problema dell'area vesuviana è proprio questo. Il rischio vulcanico è molto elevato perché intorno al Vesuvio, oltre alla grande città di Napoli, esistono tanti altri comuni. La carta del rischio vulcanico del Vesuvio mostra quali aree potrebbero essere ricoperte da materiale piroclastico in occasione di una nuova eruzione pliniana. Poiché i venti predominanti soffiano in queste direzioni, se dovesse verificarsi un'eruzione, il vento distribuirebbe ceneri e lapilli principalmente in quest'area. A distanze comprese tra i 40 e gli 80 chilometri dal Vesuvio, potrebbe depositarsi uno strato di almeno 25 centimetri di lapilli e pomici. Fino a 40 chilometri di distanza, invece, lo spessore dei materiali vulcanici potrebbe essere superiore al metro e con un peso sufficiente a sfondare i tetti delle abitazioni. Queste altre due aree sono analoghe alle prime, ma le probabilità di essere coperte di lapilli e pomici sono inferiori, perché i venti soffiano raramente in questa direzione. Ma alle pendici del Vesuvio cosa accadrebbe? Nel raggio di 10 chilometri dalla bocca del vulcano si prevede che i depositi piroclastici possano raggiungere i 4 metri di spessore. In decine di comuni i palazzi cederebbero sotto il peso dei prodotti vulcanici e le strade dei negozi sarebbero letteralmente sepolti. Anche in questo caso, a causa dei venti predominanti, l'area in evidenza ha una maggiore probabilità di andare incontro a un evento del genere. Questa, invece, è l'area che potrebbe essere interessata dai flussi piroclastici e dalle colate di fango, due delle più pericolose manifestazioni vulcaniche. L'ultima eruzione del Vesuvio risale al 1944, ma ciò non vuol dire che il rischio di un'eruzione sia remoto. Anzi, proprio perché è passato molto tempo dall'ultima eruzione e ancor di più dall'ultima eruzione pliniana, per gli abitanti dei comuni vesuviani si alza la probabilità che in tempi imminenti se ne verifichi una di tipo pliniano o subpliniano. Per questo, i parametri fisici e chimici del Vesuvio sono costantemente monitorati. Qualora dovessero variare sensibilmente dai valori normali, sarebbe infatti possibile far scattare i piani di evacuazione, allontanando per tempo gli oltre 600.000 abitanti dei comuni circostanti. Studiare il passato, monitorare il presente e progettare efficienti piani di evacuazione dalle città sono ad oggi le uniche armi di cui disponiamo per difenderci dal Vesuvio. Grazie.